Guidava la macchina anche se allo Stato risultava essere non vedente e per questo percepiva una pensione di invalidità civile per cecità assoluta e di irreversibilità per inabilità. L'uomo, residente nel Piovese per dieci anni, aveva regolarmente percepito il contributo circa 2000 euro al mese. Si dichiarava cieco alla Commissione Provinciale Sanitaria di Padova, ma guidava l'auto tanto da aver richiesto e ottenuto il rinnovo della patente di guida. Da qui sono partite le indagini della Guardia di Finanza di Piove di Sacco che hanno portato alla scoperta della truffa e al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 2000 euro. Per mesi i finanzieri hanno pedinato l'uomo quotidianamente sentendo anche numerosi testimoni. L'indagato è stato sorpreso alla guida dell'autovettura intestata al proprio figlio ed è stato anche visto deambulare nei pressi e all'interno dell'ospedale senza alcun tipo di ausilio. Non si avvaleva nemmeno di assistenza. Alla fine è stato denunciato per truffa gravata e danni dello Stato. Oltre a questo è stato disposto il sequestro di 200.000 euro circa, il denaro percepito negli anni come pensione di invalidità.